Siamo con Manuel, l'autore del secondo gol del Pellegrino Artusi. Cosa pensi dei tuoi compagni? Penso che i miei compagni hanno fatto un buon lavoro, però se magari facciamo qualche cambio nella fine del primo tempo, potremmo fare meglio. Ci siamo stati molto sfortunati nell'ultimo gol nei minuti di recupero. Dobbiamo fare meglio e cercare di guadagnarsi altri 6 punti. Cosa pensi che avresti dovuto cambiare per fare meglio? Innanzitutto, due o tre persone per la fine del primo tempo per cercare di fare più gol e fare una fase perfettiva.